I due luoghi simboli, la guinza sulla Fano Grosseto, l'incompiuta delle incompiute, a Cagli dove noi abbiamo un tratto di strada importantissimo, la Flaminia e il passaggio verso l'Umbria, un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico del nostro territorio. In un momento come questo la visita del collega Melasec, una visita che porta risultati concreti perché c'è un accordo su tutta la linea per risolvere problemi infrastrutturali del nostro territorio, non solo problemi infrastrutturali stradali ma anche ferroviari, abbiamo parlato anche di ciclabili, rappresenta davvero una svolta per le nostre due regioni e per il centro Italia. Dicevamo che per la prima volta dopo tanti anni queste due regioni istituzionalmente si incontrano e hanno una visione strategica definita per lo sviluppo dei nostri territori. Davvero un passo in avanti. Ci siamo accordati con il collega Melasec che già tra due settimane ci rincontreremo per definire dei cronoprogrammi che non dipendono ovviamente soltanto dalle due regioni ma anche dagli enti sovraordinati. Stiamo recuperando il tempo perduto in passato. Questa sintonia devo dire che porta davvero bene perché già sono stati nei giorni passati, nelle settimane passate, sono svolti dei tavoli tecnici che hanno portato risultati concreti. Parlavamo prima della Orte Falconara che ovviamente riguarda i nostri due territori. Non solo sono stati individuati dei finanziamenti ma sono stati individuati tempi di priorità per la realizzazione di alcuni tratti di queste opere. Abbiamo rinsaldato questi rapporti perché a livello nazionale siamo due regioni medie, l'Umbria più piccola delle Marche, unire le forze stiamo notando, sta portando risultati importanti. C'è anche una, devo dire, il che non guasta, una sintonia dal punto di vista del rinnovamento delle due amministrazioni, Umbria e Marche e quindi grazie anche a questo rapporto c'è un'amicizia personale e stima fra noi due. Credo che i risultati da qui a breve, medio periodo, si vedranno tutti.